Benvenuti a un nuovo appuntamento a Tu per Tu con Roberto Severini, al quale facciamo immediatamente una domanda. Politica questa volta, più che amministrativo di territorio. La cronaca ha registrato un incontro tra i partiti di centrodestra rappresentativi di quella che può essere una coalizione elettorale. Tu non c'eri, come mai? Buongiorno innanzitutto. Non vedo nulla di strano sinceramente che tre partiti del centrodestra si riuniscano, in quanto la coalizione di centrodestra partitica è rappresentata dalle persone che hanno formato il tavolo. Quindi non vedo nulla di strano in questa fase. Cioè tu praticamente stai dicendo che non era una coalizione, era una riunione dei partiti di centrodestra. Tu non essendo un partito è normale, è conseguenziale che non ci fossi. Credo a tre anni e mezzo di distanza delle elezioni parlare di coalizione mi sembra un po' troppo. Sì, non ho notato nulla di strano, mi ha fatto piacere che tre partiti del centrodestra si siano incontrati, come è logico e fisiologico che questo accade, però non ho notato nulla di strano. La tua posizione politica, centrodestra, è vero quello che dici te, mancano tre anni e mezzo, ma è vero pure che le grandi manovre sono già iniziate, si sono riuniti. Quindi tu non c'eri, la domanda potrebbe nascere, da che parte stai? La risposta è semplice, dai cittadini, quindi sto dalla parte dei cittadini, non ero presente a un tavolo e rimarco il perché, perché era un incontro tra partiti. Non è che stai diventando molto troppo, direbbe qualcuno amico di Montino? Ma io personalmente posso essere amico di tutti, in aula rappresento la lista civica, quindi rappresento i cittadini e quello che loro chiedono. La mia posizione è netta, l'ho sempre dimostrato, non sostengo battaglie ideologiche ma battaglie che provengono dal territorio. Penso che il mio compito per questo mandato è questo, poi da qui a capire in quale coalizione la lista civica che crescere insieme sarà rappresentata ci vogliono tre anni e mezzo, quindi il percorso sarà lungo, guarderò con attenzione e apprezzerò aperture alle liste civiche. Senti, a proposito del tuo impegno come lista civica e impegno sul territorio, come abbiamo detto anche la scorsa puntata sei notoriamente un punto di riferimento del nord di questo comune, del comune di Fiumicino, ma l'altra volta pure abbiamo visto il tuo impegno in un'altra zona totalmente distante che era quella di Parco Leonardo. Adesso la cronaca di questi giorni ha registrato un ennesimo tuo impegno al fianco dei cittadini in un'altra zona ancora che è quella di Isola Sacra, in particolare una battaglia su via Trincea delle Frasche, ce ne vuoi parlare? Sì, intanto ti ringrazio che mi hai fatto questa domanda perché mi lasci sempre chiarire il mio aspetto. Il mio ruolo è quello di portare in aula quelle che sono le rappresentanze, le richieste da parte dei cittadini. Questa volta avevo letto un grido di allarme, diciamo, lanciato da una parte di negozianti di Trincea delle Frasche e un anno fa c'è stata una manifestazione, non ho visto risvolti, ho preso al volo quello che era la richiesta dei cittadini e ne farò un documento in aula solo dopo aver ascoltato anche i miei colleghi in consiglio. A tal proposito voglio informare che proprio ieri in merito a questo comunicato ho subito contattato l'assessore Angelo Caroccia per capire cosa si può fare e quello che c'è da fare. Lo incontrerò personalmente tra oggi e domani per capire quali siano i risvolti. So che ci sta lavorando quindi mi piacerebbe capire l'alternativa per risolvere quest'annoso problema. Allora solo per chiudere mi pare che questo sia proprio il tuo modus operandi, cioè fare da interfaccia come forse è giusto che sia tra i problemi della città, dei cittadini in particolare e il consiglio comunale inteso come organo alto. La lista civica in questo fuori dai partiti può avere un valore aggiunto perché appunto non è contro ideologicamente ma affronta di volta in volta il singolo problema. Ma sì, io credo che le liste civiche abbiano questo di ruolo, quello di raccogliere le problematiche del territorio. Per il momento, ripeto, la lista civica farà questo in aula come ho dimostrato già in altre occasioni, valuterò di volta in volta ciò che arriva. Questo però non deve lasciar pensare di essere amico di una maggioranza o di essere contro un centrodestra. Assolutamente. Io ho fatto parte di una coalizione di centrodestra che non rinnego, le elezioni però sono terminate, ora c'è una legislatura che dura cinque anni. Ci rivedremo tra tre anni e mezzo e nel frattempo osserverò con attenzione ciò che accadrà.